Cucu! Siamo? Si prova a registrare le prove un attimo? Yes. Aspetta, vediamo se mi riesce. Che si fa? Eh, il blusettino, quello... Ah, quello che va in là. Sì sì. Il blusettino, quello che va in là. Esatto. Ok. Cucu! Il blusettino, quello che va in là. Cucu! Ora, ecco. Cucu! Grazie per la visione 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 Grazie per la visione